Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video, come al solito, io sono Gabri, io Birillo, oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido, vai Birillo, esponicelo! Allora, Liqui Spadding, un liquidozzo della super tanta roba, sarebbe un budino, una panna cotta con della vanilla, del cioccolato bianco e liquirizia, tanta roba. Ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo, Gabri sopra il profile, io l'ho già messo dentro alla tank dell'Ammit, che mi sto trovando bene con questa tank, con la mesh si sente da dio di liquido almeno. Vai Gabri! Buono! Bello cremoso, poi alla fine si sente la liquirizia, tipo quelle caramelle di una volta, con l'incarto bianco, come si chiamavano, non mi salta a mente, non lo dico la caramella liquida, buonissima! Tanta roba! Sia cremoso che fresco, sì, io do un 8,5-9, mi piace tanto! Buonissimo! Lo consigliamo, lo consigliamo, noi l'abbiamo preso dal svapo caffè, Marina di Carrara, Molicciara e la Spezia, andate a trovare il grande cri, allora dalla caverna dello svapo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale, ricordatevi che abbiamo una pagina su Facebook e su Instagram, veniteci a trovare, ciao! Ciao!